Tra quelli che coltivano specialiste nella marijuana ritengo sia la persona più competente che abbia ascoltato nell'arco di oltre 30 anni della mia carriera di magistrato. Ruotava attorno alla perizia le non comuni competenze agronomiche di Emanuele Mancuso, rampollo del casato di Indrangheta di Limbadi, la complessa organizzazione dedita alla coltivazione allo spaccio di marijuana sgominata dalla squadra mobile di Vibo Valencia con il coordinamento della DDA. L'operazione Giardini Segreti ha portato così all'esecuzione di 18 misure cautelari, 8 delle quali in carcere, 9 domiciliari e di un obbligo di dimora. 39 complessivamente gli indagati, 26.000 alle piantine di marijuana sequestrate nell'arco di un'indagine portata avanti per tre anni dalla mobile di Vibo che riscontrando analogie nelle tecniche di produzione e gestione delle piantagioni si è messa sulle tracce dei responsabili come se avesse che fare con un serial killer, giungendo infine al vertice di un'organizzazione in grado di incamerare 26 milioni di euro a raccolto per almeno tre raccolti a piantagione. Indagini che hanno trovato pieno riscontro proprio nelle dichiarazioni di Mancuso, recentemente divenuto collaboratore di giustizia, e che hanno consentito inoltre di chiudere il cerchio sulle fonti di approvvigionamento della materia prima, risalendo al sito empatia.com, dal quale il trentenne di Nicotra acquistava all'ingrosso semi in gran quantità con una falsa partita IVA, rivendendone poi una parte ad altri coltivatori, come un grossista qualunque. Chiuso il sito, sequestrate 18 rivendite degli articoli legati alla cannabis in tutta Italia, emerge dalla pieghe dell'indagine un uso criminale della tecnologia, non solo gli acquisti online, ma anche i sistemi di irrigazione all'avanguardia e addirittura droni per controllare la maturazione delle piante e presidiare il territorio. E' il primo significativo contributo alla giustizia che parte dal neocollaboratore, un banco di prova sulla sua attendibilità che, secondo il procuratore Gratteri, il Gione Mancuso ha superato pieni voti. Questa indagine vi dimostra la grande facilità, le maglie larghe della legge che consentono la possibilità di aprire questi siti internet, di avere questi negozi che vendono marijuana light e poi gli sfasci che crea l'uso sistematico di marijuana nella testa dei giovani. Questa indagine colpisce la capacità imprenditoriale e la modernità della famiglia Mancuso, la capacità di fare acquisti online, la capacità di controllare tramite droni gli appezzamenti di terreno dedicati alla coltivazione e l'opportunità di sfruttare una manopera offerta da extracomitari. Questi tre elementi li ritengo simbolici e sintomatici della loro grande capacità criminale e imprenditoriale. Nell'ambito dell'indagine sono state sequestrate circa 26.000 piante che erano il frutto di sei piantagioni distribuite su tutto il territorio di Vibo Valencia e da queste 26.000 piante si sarebbe potuto il valore in termini di dosi a livello economico o superiore ai 26 milioni di euro. Stefano Mandarano per la CNews24